buongiorno 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 questi sono le bombe da regalare non posso metterlo su youtube questo video si scherza andando verso un posto molto meno nelle campagne della di alessandria di dove siamo stai muovendo le mani queste campagne che da secoli accolgono i lavoratori le braccia che ci danno da mangiare ci spavano nei momenti più difficili della nostra vita e siamo lì perché vogliamo comprare i terreni al regno di fontanelle questo il feudo la villa e vediamo la villa questi sono i sud esatto esatto giustamente sfruttati immagino esatto e questo è il nostro stagliere ciao posso carezzati no guarda che bella polastrella che abbiamo qua niente è andata sicuramente fanno buon brodo ora dobbiamo fare l'aperitivo e ti sei l'ha detto al tavolo bisogna prendere un tavolo non so dove portarlo non so dove pai che sua 35 euro preso in sconto taglia l poi maglia no questa la pancia maglia che è sua non so quanto pagata pantaloncini adidas la qualità sostanzialmente e poi e poi dopo i mitici scarponcini di gomma io che gli occhi gli occhi gli occhi c'è la cipolle calda come il pane sotto un pinaccio cos'è poi polpetta polpetta spinaci ricotta e un po di un po di olio olio ma mia che viene da piangere che non ho fatto niente c'è un odore di cipolla non mi stava entrando negli occhi soltanto per l'ambiente mezzo stavamo notando gli ovetti quello verde e poi ci sono questi che sono tipo enormi mamma mia sentiamo la barzelletta fate un assaggino fai un assaggino cla dici com'è sebastiano doria mandami un accendino prima che ti venga a bruciare il pezzettino il ritornello spazi dovrà ho già offriamo una birra del chicco grazie mille vecchio non dovrei ecco ecco hai soldi grazie ancora ahhhh piacissima oh oh scatta mamma mia oh che cazzo è successo come ti senti dopo aver rotto il piatto guarda lui me l'avevo in mano ho fatto così mangi così mangi così adesso vai ahhh 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 un ribasso un ribasso classico superlupo e che era quello che volevo era quello che volevo questo cos'è? facci vedere i geniaggi i geniaggi meccanici qua eh? delega delega OHHHHHHH il sole scende già Resta qui con noi I generating sincerità Siete matti da legare proprio No comment, no comment No comment, lasciamo a casa Lasciamo tutto il mio avvocato Allora, una cosa che ti dà fastidio del chicco Che non si vede tanto per ora Guardando la luce e non la telecamera Ciao ragazzi Dimmi perché ti sa sul cazzo al giorno Guarda, i capelli I capelli, guardalo qua i capelli Guarda qua Perché ti stasso i coglioni lo steva Perché mi viene a romper il cazzo Guardalo qua, guardalo qua Ma sei per solito Quello che piace è un cibo afrodisiaco Marrone Allora, quella che non c'è in Israele Pace Allora, è una foto Io sono una donna bianca e voi uomini etero cisgender Quindi invece avete un diritto No Le squadriche eravamo, Tario Io Luby Sì Amadeus Conduratore Programma Comentatore Domanda Suspense Nascosta Nascosta E' buona E' buona E' buona Non me l'aspettavo L'avete potto alzare per farvi spegnere l'argumento Ma Raccontaci la storia Una storia anche agli altri Finca anche gli altri Davide e Giuseppe Una storia, una storia Buonanotte Ma Ma Mi siete chiusi gli scuri, vero? Sì E voi? Grazie, noi Da questo lato ci sono gli animali Bravo, Tico Bravo, Tico L'opzione ci sono Qualcuno non gioca, sicuramente perché qualcuno non gioca Mamma mia che capelli Chi c'è? Ah, Yurkai Carte, devo far musina qua All'inizio è proprio Che figata Bellissima cosa Quindi io gioco intanto questo Big Dick is back in Buonasera Buonasera Buongiorno, semmai Allora hai dormito bene Benissimo C'era soltanto la gente che urlava E piangeva perché voleva entrare Cioè voleva uscire Era ancora dalla cabina armadio Però ho dormito molto bene Figo Benvenuti sul mio canale Entriamo in casa Entriamo in casa Buona Questa è la berpa sorda Ciao Che è sorda Hai sorda? Sì Poverina Perde tanto di quel pena Poverina Perde tanto di quel pena Una nera Psypo Sì questa Ma ciao No paura E quella sopra è Teresa Quella nera No Lei è una coccolona Lei è una coccolona Sì Lei è una coccolona Ciao E te? E te chi sei? Ah eccola dove Quella nera Cleo Tatti auguri Tatti auguri Tatti auguri Guardate qua che pizza Guarda che roba No 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 Scusate È la chiaia Cioè Il giardino e la chiaia Invece la Non c'è 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 E poi E poi dopo ci siamo Ma non c'è Sì ce n'è uno E passa due volte al giorno E passa la vita